È qualche mese che non vorrei essere Ciro Immobile perché c'è tutto il mondo del calcio e tifosi, non tifosi, amanti, appassionati che hanno deciso che i suoi 200 gol non contano più niente e che la sua carriera è terminata. Adesso c'è il momento Itati Casteggiano, c'è il momento in nazionale di Scamacca e Ken, di Raspadori e quindi Ciro Immobile è diventato un soprammobile più che Ciro Immobile. Questa cosa fa impazzire e fa capire quanto non ci sia un minimo di riconoscenza nel calcio e quanto sia tutto straordinariamente veloce. Ciro Immobile ha 33 anni, classe 1990, è un giocatore che può ancora avere 3-4 anni di carriera serenamente al massimo livello. Quando si parla di Ciro Immobile e del fatto che non stia facendo bene, bisognerebbe analizzare il perché non fa bene, perché non è un centravanti da 4-3-3, perché con Simone Inzaghi nel 3-5-2 attaccando alla profondità ha fatto 30 gol all'anno per varie stagioni e l'avrebbe fatti anche all'Inter con Simone Inzaghi qui quest'anno o in altre squadre che gioca in una maniera diversa. Ciro Immobile ha bisogno di giocare in uno spartito che gli si addica come succede a tantissimi altri giocatori, ma dare per finito a 33 anni uno che ha segnato 30 gol al campionato tutta la sua vita mi sembra veramente sbagliato e da ingrati e spesso l'ho sentito in ambienti che invece dovrebbero adorare Ciro Immobile che riguardi la nazionale o che riguardi la Lazio. Questo per dire che Viviano è il miglior portiere della Serie B per parate e ha, credo sia 85, quindi ha 38 anni, quindi è 5 anni più vecchio di Immobile e fa il portiere dove ci vuole un po' di riattività al momento. Cioè l'età è un numero ma non è così rilevante. Mkhitaryan ha 34 anni nei 10 partiti stagionali dell'Inter è il migliore in campo sempre insieme a Lautaro Martinez. L'età conta relativamente. Prima di buttare a mare uno che ha fatto quello che ha fatto Immobile nel calcio io ci penserei non una ma 50 volte. Dopodiché se mi dite Sarri continuerà a giocare 4-3 e per Immobile può essere un problema, vi dico di sì. Però la velocità con cui Immobile passa dai 30 gol a essere un peso mi sembra onestamente sorreo. Posso fare un attimo l'avvocato del diavolo? Ci sarebbe quelli che lo criticano il diavolo? Sì. Allora, primo anno di Immobile con Sarri 27 gol mi sembra. Sì. Quindi più o meno 4-3-3. Sì sì sì. Quindi Trevi più o meno con lo stesso modulo. Io l'impressione che ho avuto guardando Quanti rigori? Eh, tanti. Credo. Giuse? Eh, un po'. Un po'. Un primo anno ma... Ok. L'impressione che ho avuto guardando Lazio al vivo, adesso a Glesgov, non lo so, ho avuto un po' magari un'impressione sbagliata e per carità sono prontissimo a ritrattare perché anch'io sono grandissimo fan di Ciro Immobile. Ho avuto un po' l'impressione che fosse un po' rallentato. Ti faccio sta domanda. Fisicamente, rispetto a Castellanos. Ti faccio sta domanda. Come l'hai visto l'anno scorso Lorenzo Pellegrini? Vale. Come l'hai visto se dieci partite Barella? Ma? Come l'hai visto se dieci partite Rabiot? Oh no, hai ragione, male. Hai capito? I giocatori giocano male, hanno momenti alternanti di forma, ma non vuol dire che devono essere buttati nel cesso. Ah no, assolutamente. E invece qui sembra che Immobile c'ha... Poi, aspetta. Castellanos, ottimo calciatore. Scamacca? Pure. Ken per me è forte, lo sapete, vi ci sbatto dall'anno scorso su questo tema. Stiamo andando a mare Ciro Immobile, ragazzi. 200 gol in Serie A. 2-0-0. Eeeh, sono valido in entrambe le posizioni. Non voglio fare il Demo Cristiano. Ieri ho visto un'ottima partita di Castellanos, che ha fatto un assist, secondo me, molto intelligente, molto bello, il 3-2. E' chiaro che Immobile non è soltanto l'attaccante a Lazio, il capitano a Lazio, il maggior bomber da stare a Lazio, quindi discuterlo è già una cosa forte. E Sarri, secondo me, però, detto che hai ragione, Ricky, Sarri, secondo me, sta iniziando a pensare a quei pensieri che ti scavano dentro e che forse non ci vuole un po' di coraggio per escludere. Come era difficile escludere Totti, magari, negli ultimi anni a Roma. E' un pensiero che, secondo me, mina un po' alla base il rapporto di fiducia tra Sarri e Immobile. Perché Sarri, in Immobile, in questo momento non vede un punto di riferimento certo, come Felipe Anderson, che le gioca tutte, come Zaccagni, come Luisa Alberto. Ma noi sappiamo il centravanti che piace a Sarri. Non è un giocatore con i piedi di Immobile il centravanti che piace a Sarri, ragazzi. I piaci un centravanti con i piedi squisiti. Immobile ha tutto tranne i piedi squisiti.